Stavo leggendo un articolo interessante che diceva che il social CRM non esiste, in realtà io penso che esista, però credo che il vantaggio non sia tanto rispondere ai clienti usando un altro sistema, perché il problema delle aziende era soprattutto che già i sistemi esistenti di CRM funzionano male e sono utilizzati in modo non soddisfacente. Quello che voglio dire è che è inutile iniziare a usare Twitter per rispondere ai clienti quando poi sul tuo sito hai una form in cui hai 200 campi da compilare per riuscire ad avere assistenza, oppure ti mando una mail e tu non mi rispondi prima di qualche giorno. Quindi bisogna anche, secondo me, stare attenti a non essere troppo influenzati dalla moda, del social, qualunque cosa e dimenticarsi fondamentali di business. Quello che dicevo prima, il sito americano che risponde alla mail dopo un'ora lo preferisco a quello che mi fa un super sistema di social CRM in cui però ti mando una mail e non mi rispondi mai. Quello che può essere interessante del social CRM, secondo me, è il fatto di riuscire a fare in modo che i clienti si aiutino da soli. Questa è la sfida fondamentale, essere così bravi, così coinvolgenti, così socievoli da fare in modo di attirare delle persone che vivano l'azienda assieme a te pur non essendo dei dipendenti e quindi si supportino l'uno con l'altro. Questo sì che riesce, che sia su Twitter o su Facebook, riesce ad abbattere i costi del contatto col cliente. Un aspetto successivo di utilizzo di social media per portare innovazione dentro l'azienda per esempio, sono quelle piattaforme tipo IdeaStorm piuttosto che MyStarbucks Idea, che sono fondamentalmente delle idee di crowdsourcing, insomma. Ogni utente propone la sua idea, ovviamente tutte queste centinaia di migliaia di idee a volte, se arriva a dei numeri pazzeschi, tutte vengono considerate e si arriva ad implementarne alcune a cui magari non si era neanche pensato. Sì, io amo dire che la media delle idee dei clienti è sicuramente pessima, però che all'interno di quella media, di quell'aggregato di idee sicuramente c'è qualcuna a cui voi non avreste pensato, a cui non avremmo pensato, insomma. Quindi l'idea della saggezza delle folle che può guidare l'azienda forse è un po' esagerato, però l'idea del crowdsourcing come ambiente in cui far coltivare anche piante buone ed erbacce, insomma, tutto assieme e poi riuscire a capire quali sono erbacce, quali sono piante buone è sicuramente un grande vantaggio. Diciamo che l'uso di piattaforme ne facilita un po' la strutturazione, questo sicuramente, piuttosto che una pagina Facebook in cui le idee o le impressioni vengono mescolate l'una con le altre in modo caotico e comunque non strutturato, diciamo che piattaforme di questo tipo riescono a far almeno incanalare le idee più votate o più popolari e quindi risultare prima delle altre, al di là appunto della fattibilità o meno. Sono utili anche per ovviamente dare un po' di, possiamo dire, una direzione alla partecipazione, alla conversazione che si sviluppa attorno all'azienda, no? Perché spesso si vedono pagine Facebook o comunque community che continuano a girare attorno a se stesse in cui c'è engagement, c'è molta partecipazione, passione, così, però stringi, stringi, spesso non producono niente né per gli utenti né per l'azienda stessa. Prodotti per esempio come quelli di Apple probabilmente non sarebbero esistiti attraverso questo tipo di piattaforma di co-creation piuttosto che crowdsourcing, giusto? Beh, se tu parti dal concetto di Jobs per cui le persone non possono sapere ciò di cui hanno bisogno, se nessuno gliel'ha ancora presentato e creato sicuramente se parti da quel concetto lì. Quello che dico io è che, ok, di Apple ce n'è uno, ma ci sono molte più Dell in giro come aziende che come Apple, insomma. Quindi magari stare lì ad ascoltare anche quello che si dice in giro male non fa, ecco. Tra un estremo e l'altro c'è molto spazio di miglioramento probabilmente. Volevo chiederti un'altra cosa, le tue 91 tesi. Che peraltro ormai non ricordo più perché sono passati tre anni. Appunto, volevo chiederti, insomma, soprannominato anche il pensiero di Egogliano da alcuni appassionati, volevo chiederti qual è stata l'ispirazione che ci stava dietro quando le hai iscritte e a che punto pensi che siamo riguardo alla loro implementazione reale dentro le aziende? Beh, allora, l'ispirazione è ovviamente blog, vari post che avevano suscitato un dibattito, la volontà di condensare appunto la conversazione sui blog, su Twitter, in giro, in un qualcosa che rimanesse, diciamo, un corpo unico, insomma, che vivesse anche di vita propria. All'interno delle aziende temo che non siamo tanto avanti, un po' perché, visto che continuano a considerare le visionarie innovative, dopo tre anni mi porta a pensare che la situazione non sia cambiata tantissimo. Anche se in realtà probabilmente il mutamento avviene con un ritmo lento ma continuo, no? E come questi mutamenti lenti e continui non si notano. Ci accorgiamo magari dopo cinque anni che le cose sono cambiate, ma non hai notato da un punto A a un punto B dei punti di rottura, insomma. Io credo che un qualcosina da tre anni fa, oggi, sia passato. Chiaro che i blog magari sono passati di moda, si parlava molto di corpo di blog, si parlava di altre cose. Nel frattempo è uscito Facebook, insomma, c'era già, ma è esploso. Cambiano, io credo che il pregio di quelle 91 frasi sia di essere abbastanza indipendenti anche dagli strumenti, dai mezzi con cui puoi conversare e focalizzarsi un po' sul concetto base, sulle dinamiche base, che poi possono essere un po' utilizzate dal forum a Facebook comunque a Twitter, ecco. Comunque, leggendole, ho avuto la sensazione che una parte di esse fossero ispirate al Clue Train Manifesto. Assolutamente. Sono passati dieci anni che, insomma, è stato messo insieme ed è ancora considerato innovativo. Assolutamente. Non era mai stato negato che, insomma, le 91 tesi fossero una versione più marketing oriente, diciamo, delle 91 del Clue Train Manifesto. Come di sicuro ha in comune il Clue Train Manifesto una certa fiducia smisurata negli utenti, ecco. probabilmente se dovessi riscriverla adesso, oggi che i social media rappresentano davvero un po' tutta la società nel suo complesso, ci sarebbero delle parti in cui gli utenti non sono poi così tanto più intelligenti di certe aziende, insomma, forse ognuno ha anche, diciamo, i clienti che si merita, in certo senso e anche le aziende che si merita. Un'altra cosa, si parlava, appunto, sempre leggendo le 91 tesi, del fatto che ormai fossero addirittura oltre il marketing ed è saltato fuori la parola un-marketing che ti chiedo gentilmente di spiegare più approfonditamente. Ma un-marketing, ho visto che, tra l'altro, è uscito anche un, adesso, al fine dell'anno scorso, un libro americano che si chiama Un-marketing, rappresenta il demarketing o lo smarketing o il fatto di migliorare le aziende togliendo il marketing e non aggiungendone. Togliendo tutte le parti che non servono più, tutte le parti che rappresentano solo delle sterili ripetizioni di cose che si fanno perché si sono sempre fatte, ma un po' come i commercianti che dicevamo prima, rappresentano, cadono, cascano all'interno di questa frattura che si è formata tra le aziende e un consumatore di tipo moderno, insomma, di tipo proattivo. E tutta questa serie di attività vengono fatte, ma probabilmente non servono più a tanto. E quindi, appunto, a marketing, qualcosa da togliere al marketing per rendere tutti più contenti. Ecco, questo era lo scopo, l'origine della parola, diciamo. Chiarissimo, insomma, per cercare di superare quel vaccino che è stata la pubblicità, quindi. Sì, non solo la pubblicità, i comunicati stampa, alcune stanche riproposizioni di testimonial che fanno pubblicità o sponsorizzano qualsiasi cosa e si pensa che possano essere credibili per aumentare le vendite dalla pasta all'elettricità, insomma. Una faccia che va bene per qualunque. Ecco, probabilmente, sì, tutta questa serie di cose che discendono da, sì, probabilmente da un concetto pubblicitario, ma più che altro da un concetto di comunicazione di massa, di cui la pubblicità era ovviamente l'esempio più popolare, più lampante, insomma. E soprattutto di comunicazione unidirezionale. Soprattutto. La pubblicità funziona a suo meglio quando ha un pubblico che assorbe senza fiatare. Oppure affiatando soltanto nel suo piccolo e invece quando ci sono… Sì, probabilmente sì. È chiaro che nel momento in cui invece il pubblico risponde, allora la pubblicità, la vecchia pubblicità funziona sempre meno oppure corre anche dei rischi di essere in certo senso controproducente, insomma. Grazie.